Dano, non deve tornare! Non deve tornare! No, no, no! Stai staccato! La regia! Distruggi tutto! A petto nudo! Con una brioche! Cosa va a fare Ivan Grieco in una banca greca? Aspetta, posso pensarci? Sì! Non lo so, no! Un Iban greco! Elena! Non l'ha detto bene! E' più El! La pronuncia corretta è... Elena! Questa è la pronuncia corretta! Chi è incapace che non l'ha detta così? Voi, io non so, quali persone non sanno più parlare l'italiano? Dov'è il patriottismo?! Dov'è il patriottismo per la lingua italiana?! Ma mo' lo vediamo! Ah, Ciccio si è scopata da Sabri Gamer! Perché il napoletano è una lingua sagra! che non... AAAAAAAH! No, ho perso i denti, adesso me l'hanno rifatto DENTI! VENTI! VENTI! Voglio avere nuovi denti! È un lamento, ma guarda che artisticamente è potentissima quella canzone per me! È certo, però vorrei avere nuovi denti! Aspetta che qua non c'è... VENTI! Com'è Gioallu? Aspetta, fammelo un attimo te! VENTI! 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 Riusciamo a vedere sto video? È orecchiabile! Entra in testa, capolavoro! Mentre ti accompagno fuori, puoi camminarmi sopra e mi stendo per terra! Guarda, penso che veramente l'anno al 2022 finirà con una querela nei due correnti a parte mia! Cioè, sono anni che cammini sul filo del rasoio e ti avvicini sempre più al baratro! No, no, no! Così non va bene, eh? No, Andrea, i toni no! Lei si ricordi che si sta... No, no, pure Maria Sofia, no Andrea! No, 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 no! Si sta rivolgendo ad una donna! Sì, vabbè! Io non so, non so grembo da qui, eh! No, vabbè, scherzo, grande grembo! Ci serve la vostra firma! Ma cos'è? Ma che è? Ma che è sta buffonata? No, no, AMREF è alta Africa! No, no, la ritiro tutto! Vabbè, vabbè, ma perché era vestito così? Ma all'inizio era strano! Ma che è sta buffonata? Ma che è sta buffonata? No, vabbè, mi distogio con tutto me stesso! Creve, creve! Ma che cazzo ne so, scusa, ma guarda... Marco, inquadrami per cortesia, ma guarda dov'è lo schermo! Ma che ne so io! Ma che è sta buffonata? Sto guarda là, con occhiali pieni dei dita! Puoi scegliere se ammazzare uno dei due, oppure se scegliere il terzo e ristartare! Penso che lo sappia, Giorlù! Pensaci molto bene! Però Meletor, posso dirti una cosa? Pensaci molto bene su questa tua scelta, Meletor! Pensaci molto bene perché può cambiare le sorti... Forse dovresti tacere perché è un po' un conflitto di interesse! Da chi me lo dice, è il morto più parlante della storia di Lombos e Cerbero! Taci, cretino! Ci pensi bene, Meletor! Pensi bene, Meletor! Taci! Pensi bene! Taci! 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 Meletor! Pensi però alla scelta! Taci! Michael, sei un inetto! Sei un inetto, Michael! Non stai fare i meme! Non stai fare i meme! Non sei buono! Perché hai messo in mezzo marra per avvalorare la tua tesi, per avere ragione con Gianluca Si Silvano? Io però sono ignorante per me renderizzare e togliere lo sfondo! Non fare i video! Non c'è che... Apprezza l'impedio! Cioè, non so che renderizzare! Non so... Nemmeno registrare lo schermo del telefono! E lo blast! Non lo fare allora! Ma fagli li fai e poi lo blasti ogni volta! E' meglio piuttosto che smette di farli! Ma vivete lì? Assolutamente sì! Marra dorme sul divano, io invece dormo qua così! Comodo! 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 Lo sapevo! Oddio! Con la luce! BELLA SINQUERATURA! Sembra IMI! Hai visto? Do... Ororniamo qui! Siamo pazze! Andatene pure a fanculo! Non c'ho da fancazze! Non so che cazzo sto fa! uff! 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 Sei un ragazzo! C'ho stoccato in cazzo! Uff! 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 Ma che tirchio, raga, voi me conoscete? Chitano sarà un tirchio! Eh! Beh! È vero! Beh, Marco! No, è generosissimo! Stiamo scherzando! Stiamo scherzando! Stiamo scherzando! Mai offerto un caffè! Non è vero! Non è vero! che vuole un caffè sulla Napolosa vergognoso è generosissimo un trailer di Scream ok rimunerato se volete rimunerare non ne parliamo perché mai ti rimunerato niente è vero bravo Marco bambini di merda quando ti penso veramente ci sta ma in questi casi no ti marco mentre magna Marco Corpanino non capisco un caffè è ovvio per argomentare ragazzi non si discrimi allora ragazzi è arrivato il momento no 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 gabron no gabron no gabron no gabron state arrivare Dario Dario no 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 ma anche per caso stai rosicando per caso Davide stai rosicando che nella classifica di Genova nella classifica di Genova questo dipensante assoluto incapace che non farei entrare in questo studio neanche morto muschio no no vabbè io me ne vado ragazzi ragazzi prendete tutto ciao ragazzi che squali state arrivare no non esageriamo dai nel senso no no stavamo scherzando non chiudiamo questa cazzata deve fare che chiudiamo una cazzata del genere ragazzi era una goliardia ma guardiamo il numero uno dai tanto per sfizio dai no vabbè stacca tutto stacca tutto stacca tutto stacca stacca che squali state arrivare e benvenuti in questa nuova trasmissione oha oha oha